Il lungo ponte della festa dell'Immacolata potrebbe essere l'occasione per visitare e conoscere le meraviglie della nostra regione. Da domani iniziano le visite guidate gratuite alla mostra Ulisse in Sicilia, i luoghi del mito, promossa dalla regione siciliana e organizzata dalla soprintendenza dei beni culturali di Caltanissetta all'interno dell'area di Bosco Littorio, nel parco archeologico di Gela e si svolgeranno dalle 11 alle 17. L'iniziativa sarà riproposta il 26 dicembre per Santo Stefano, l'1 gennaio a Capodanno e il 6 per l'Epifania. Le visite guidate, evidenzia l'assessore regionale e beni culturali all'identità siciliana Elvira Amata, sono un'interessante opportunità per avvicinare le famiglie e i giovani al museo. Il successo della mostra nei suoi oltre quattro mesi di apertura testimonia una grande curiosità e il desiderio della scoperta storica. Dobbiamo lavorare, conclude su questa linea, offrendo una narrazione nuova e curiosa che aiuti i più giovani a familiarizzare con i personaggi della nostra storia e della mitologia. Con circa 50.000 visitatori in poco più di tre mesi e a una media di 500 presenze giornaliere, Ulisse in Sicilia, i luoghi del mito, si propone in una versione rinnovata rispetto alla prima inaugurata nel luglio scorso. Il nuovo percorso espositivo, voluto dal Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana in seguito alla restituzione di alcuni pezzi prestati da vari musei, propone ulteriori reperti che la rendono interessante anche per chi ha già visitato la mostra. Elemento centrale e cuore pulsante dell'esposizione resta la nave di Gela che gli archeologi hanno datato tra il VI e il V secolo a.C., rinvenuta nei fondali dinnanzi la costa di Bulala ed esposta al pubblico nella sede temporanea in attesa che vengano ultimati i lavori del nuovo museo. Un percorso fra reperti nuovi e inediti che accompagnano virtualmente Ulisse e il condottiero cantato da Omero lungo il suo infinito viaggio verso Itaca. Per chi non riuscirà a partecipare alle visite sono disponibili audio guide in più lingue preparate da Copp Culture che ha gestito, oltre all'apertura, i servizi di accoglienza. Per gli alunni delle scuole di Gela, inoltre, di età compresa fra i 7 e i 14 anni, è già in fase di svolgimento il ciclo di letture Sfogliando il mare, le avventure del re marinaio Ulisse.